Ciao logaritmi, oggi tratteremo dell'escherichia coli, un patogeno molto importante in medicina. Partiamo dalla sua struttura. L'escherichia coli fa parte della famiglia delle enterobacteriacee e condivide molte caratteristiche con altri membri della famiglia, quali salmonella, scighella, iersinia, clebsiella e così via. Notate che il nome di molti di questi batteri finisce per ella e poi aiutarvi a ricordare che fanno parte delle enterobacteriacee. È un bastoncello, è gram negativo, ha erobio e un erobio facoltativo, è positivo alla catalasi, negativo all'ossidasi e non ha attività dell'acito cromoossidasi. Queste caratteristiche biochimiche permettono di distinguere questo batterio e in generale l'enterobacteriacee da altri batteri con struttura simile. L'escherichia coli ha flagelli per i trichi, quindi disposti praticamente attorno a tutta la cellula batterica. Inoltre possiede una capsula. Questa capsula ha due tipi di antigene, O e K. Questa è una caratteristica comune ad altre enterobacteriacee e la presenza di questi antigeni permette di distinguere diversi sierotipi. Oltre agli antigeni capsulari, O e K, se volete un trucchetto mnemonico potete ricordare che O e K sono capsulari perché O ricorda la forma di una capsula, e K ha lo stesso suono della C di capsula, vengono uniti all'antigene H. L'antigene invece è flagellare, quindi costituito dalla proteina flagellina, e dalla combinazione di questi antigeni si possono ricavare diversi sierotipi. Ce ne sono più di 170 per l'escherichia coli, ce ne sono diversi per la salmonella e così via. La maggior parte dei sierotipi non sono patogeni o sono patogeni facoltativi. Sono presenti nell'intestino di molti animali a sangue caldo, compreso l'uomo, e l'escherichia ha la particolarità di fermentare il lattosio. Questo serve a distinguerlo da altre enterobacteriacee. Le enterobacteriacee che non fermentano il lattosio sono la scighella, la salmonella e la iersinia, mentre quelle che lo fermentano sono l'escherichia, la glebsiella e il citrobacter. Può aiutarvi a ricordare quali batteri fermentano il lattosio e quali no, metterli in ordine alfabetico. Gli ultimi tre, quindi salmonella, scighella e iersinia, non fermentano il lattosio. I primi, escherichia, che è psiella, enterobacter e citrobacter, lo fermentano. Fa eccezione a questa regola la serrazia, che pur iniziando con la lettera S, quindi essendo, diciamo, più in là nell'alfabeto, comunque fermenta il lattosio. Ma concentriamoci sulle escherichia, abbiamo detto fermenta il lattosio, possiede flaggelli, capsula e grammo negativo. Quindi già qui possiamo immaginare quali siano i suoi fattori di virulenza. La capsula è un fattore di virulenza. Il fatto che sia grammo negativo già ci fa supporre a ragione che presenti l'LPS, e quindi anche il lipide A, che è un fattore di virulenza. Inoltre, le enterobacteriacee in generale presentano dei sistemi detti sistemi di segrazione di tipo 3, che sono una sorta di siringa molecolare che fa inserire all'interno della cellula dell'ospite delle tossine. Inoltre, come altre enterobacteriacee, può fare l'antigenic phase variation, quindi variazione antigenica di fase in cui esprime alternativamente antigeni O e K ed H. Gli esprime e non li esprime, gli esprime e non li esprime sotto un controllo genetico molto particolare, che fa in modo, con questa variazione di fase, antigene espresso o non espresso, di sfuggire spesso al controllo immunitario. Inoltre, sequestra dei fattori di crescita dei nutrienti, come ad esempio il ferro. Le patologie associate all'escherichia coli sono infezioni del trattorinario, gastroenterite, meningite e sepsi. Spesso e volentieri la sepsi è causata da questo patogeno. Le altre malattie, specialmente le infezioni del trattorinario, di solito fanno seguito a un'infezione endogena. Quindi, il patogeno che contamina l'intestino, per prossimità e contiguità, può giungere nel trattorinario. Essendo flagellato, può percorrere il trattorinario e infettare quindi a vari livelli. Specialmente nella donna, in cui c'è più prossimità tra l'uretra e l'ano. Le gastroenterite e le meningite, invece, di solito, fanno seguito ad infezioni esogene. E, in particolare, nel caso delle gastroenterite, possiamo distinguere vari tipi di gastroenterite causate da vari tipi di escherichia coli. Abbiamo l'ETEC, o Enterotoxigenic Escherichia coli. Questo viene di solito acquisito tramite il consumo di acqua o cib contaminati dalle feci. E causa, in particolare, come forma di infiammazione intestinale, causa una diarrea segretoria, detta diarrea del viaggiatore, ma anche diarrea acquosa, vomito, crampi, nausea e diarrea degli infanti. Come fa questo patogeno a causare la diarrea? Lo fa tramite due tossine, l'Heat Stable Toxin, di tipo A e di tipo B, o STA e STB, e l'Heat Label Toxin, o LT, di tipo 1 e di tipo 2. La Heat Stable Toxin aumenta l'attività della cyclic guanosine monophosphate, praticamente aumenta la concentrazione di ciclico GMP intracellulare nell'epitelio intestinale. Questo porta a ipersecrezione di fluidi ed inibizione del riassorbimento di fluidi. E quindi c'è la diarrea acquosa. Inoltre, la LT, quindi la tossina labile al calore, aumenta l'attività dell'adenilato ciclasi. Questo porta a un aumento del livello di ciclico GMP nell'epitelio intestinale, aumenta quindi la secrezione di cloro e diminuisce il riassorbimento di sodio e cloro, e quindi sempre diarrea acquosa. Inoltre, l'esposizione a queste tossine stimola la produzione da parte dell'ospite di prostaglandine e di altre citochine infiammatorie. Abbiamo poi EPEC, o Enteropatogenic Escherichia coli. Questo patogeno possiede in particolare un cluster di virulenza, che è detto LEE, Locus of Enterocyte Affacement. Questi patogeni possono poi essere ulteriormente suddivisi in base alla presenza o assenza delle scherichie a coli Adderance Factor Plasmid, OEAF plasmid, il plasmid EAF, che presenta una adesina. L'infezione da questo patogeno è portata avanti inizialmente dall'adesione alle cellule epiteliali del piccolo intestino e c'è distruzione dei microvilli. A questo punto si formano delle microcolonie sulla superficie epiteliale, mediata da dei pili batterici, che sono codificati sempre da un plasmide, detto BFP. C'è una proteina, la Translocated Intimine Receptor, che è inserita nella membrana delle cellule epiteliali. E questa, a sua volta, funge da recettore per una adesina batterica, l'intimina. Il binding tra l'intimina e TIR porta alla polimerizzazione dell'actina. Quindi c'è una perdita dell'integrità della superficie cellulare ed è alla fine questo porta a morte cellulare. Anche questo patogeno, l'EPEC, porta a diarrea acquosa. Insomma, ci può essere anche vomito, le feci però senza sangue. Passiamo quindi allo stack, o Shiga Toxin Producing Escherichia Coli. Questo stack viene detto così sulla base della presenza della Shiga Toxin. La Shiga Toxin è una tossina particolare che è presente anche in un'altra, e prodotta anche da un altro batterio della famiglia dell'enterobacteriacee, che è la Shigella di Senterie. Questa Shiga Toxin, per farla breve, si lega alla subunità 28S dell'RNA e fa cessare la sintesi proteica. Non solo, c'è una sindrome, oremico-emolitica di Gasser, che è praticamente una porpora, che potrebbe essere data dalle scherichia coli producente la Shiga Toxin. Oltre alla sindrome oremico-emolitica di Gasser, lo stack porta a diarrea emorragica, con colite emorragica, e quindi è pericoloso, perché può portare anche ad a trombocitopenia, anemia emolitica microangiopatica, e e così via. Abbiamo poi l'EAEC, l'Entero Aggregative Escherichia Coli. Questo non è stato ancora ben caratterizzato dal punto di vista molecolare, ma possiede diversi fattori di virulenza, come le adesine, diverse tossine, inclusa la Shiga Toxin, e porta a diarrea cronica, che può complicarsi con ritardo della crescita nei bambini. Si pensa che a seguito dell'aderenza di questo patogeno all'epitelio ci sia un grosso rilascio di citochine, recruitment dei neutrofili, e quindi diarrea infiammatoria. Poi abbiamo l'Entero Invasive Escherichia Coli, o EIEC. Questo presenta un plasmide con delle invasine per l'epitelio colico. Questo batterio riesce a penetrare nell'epitelio colico, lisare i vacuoli fagocitici e replica all'interno del citoplasma. Dentro il citoplasma si muove fino a giungere alle cellule epiteliali adiacenti grazie alla formazione di code di actina. Questo comportamento è molto simile rispetto a quello della Listeria monocitogenes. Se non sbaglio non ho fatto video al riguardo, ma ve la posso presentare in un prossimo video. Anche questo l'EIEC porta a diarrea acquosa. La diagnosi si basa sulla coltura è un Ascheria coli e in generale le enterobacteriacee non sono molto esigenti dal punto di vista della coltura. Si possono usare degli agar particolari e selettivi per escludere altri patogeni, specialmente se il campione deriva dalle feci. Si possono fare test biochimici, come abbiamo visto, le diverse enterobacteriacee possiedono enzimi diversi che le permettono al microbiologo di distinguerle tra di loro e poi si possono fare test immunometrici, quindi tipo Elisa, per rilevare la presenza della scigatoxin che è utile nella diagnosi dello stack. Il trattamento si basa sugli antibiotici, sono diffuse le resistenze ai beta-lattamici, ma c'è un'eccezione nell'infezione da scigatoxin producing e coli è meglio non trattare con gli antibiotici ma trattare solo i sintomi perché altrimenti ci può essere una prolungazione del carriage fecale degli organismi patogenetici e quindi ci possono essere complicazioni secondarie come abbiamo visto la sindrome uremico-emolitica.